ciao a tutti ben trovate sul mio canale oggi farò insieme a voi un video unboxing spacchettiamo insieme per così dire sapete che già ho aperto tutto si vede vi farò vedere il materiale che ho preso l'azienda è la cobiz e adesso vi mostro i prodotti iniziamo da queste pietre questa volta ho preso molte pietre dure mi piacciono tanto le pietre dure come penso quasi tutte le creative allora mi sono scritta il loro nome perché nella lista che loro ci mandano dettagli quindi queste sono pietre naturali di una kite scritto con la cappa sono bellissime al tatto proprio una bella sensazione poterle toccare e sono delle pietre da 8 mm cinque fili e ogni filo contiene 47 pezzi guardate un bel verde contorno di sembra marrone qualcuna da sulla sul bordo insomma ci sono dei colori misti appunto sono cinque fili e io li ho presi in offerta tutte 5 5 euro e 71 ripeto in offerta è questo il primo prodotto allora passiamo al secondo prodotto guardate quante scusatemi volevo precisare quando io ovviamente dico che io le ho presi in offerta sempre nel senso della collaborazione perché ovviamente chi collabora non paga questi prodotti quindi però ovviamente vai a scegliere un tipo di prodotti rientrando comunque sempre in un budget che l'azienda ti mette a disposizione guardate questi sono dieci fili tanto sono belle queste pietre sono turchesi naturali anch'esse da 8 mm e questa volta l'offerta comprendeva appunto 10 figli ogni filo contiene 46 pezzi ci sono diverse sfaccettature guardate che sono belle e questo di qua sempre in offerta anch'esse 5,71 ma può darsi che avrò sbagliato mi verrà è strano che tutti e due abbiano lo stesso prezzo o può darsi di sì comunque poi io vi metterò giù nell'info box tutte le informazioni scusate se sentite questo rumore di sottofondo ma è la stufa a pellet e fa un po' di rumore e sono anche queste bellissime andiamo al prossimo finiamo con le pietre naturali questa volta si tratta di perline di agata da 6 mm guardate che delicatezza mamma mia anche questa volta si tratta di 5 fili e ogni filo contiene 63 pezzi questi li ho presi in super sconto a 2 euro e 65 anziché a 4 euro e qualcosa sempre diciamo nelle offerte guardate che sono belle quindi questa è agata da 6 mm ok con queste pietre abbiamo finito poi ci sono delle gocce che vi farò vedere verso la fine passiamo a questo allora questo è un link 1 anche se sono 3 ma sono tutti uguali quindi ho presi 3 perché ho in mente un progetto molto molto semplice guardate che bello è di acciaio inox è un rivoli già incassonato incollato non so come come viene messo ha un colore tipo un rosa pesca molto molto delicato di questi ne ho presi 3 e anche questi pochissimo in super offerta ho preso due pacchi di queste rocaille 11 della miyuki perché la volta precedente le avevo utilizzate mi sono trovata benissimo il colore è bello davvero bello è un matt sul verde ed è dal vivo sono davvero bellissimi poi ho preso queste basi in acciaio di orecchini ce ne sono in totale 10 pezzi quindi 5 paia credo siano 35 mm di circonferenza e anche qua ho già in mente cosa fare ho preso questa catenina per la verità non sono rimasta soddisfatta ma sicuramente è stato un mio errore è una catenina di bronzo ma troppo troppo sottile magari non avrò guardato bene la misura quindi non so non credo che si possa utilizzare forse ho pensato per fare della frangia di metallo poi ho preso queste basi di bracciale e qua soltanto 5 pezzi in acciaio dorato arrivano così con praticamente queste qua vanno separate dove viene agganciato il link c'è anche timbro still e la misura considerate che c'è il suo prolungo e in più diciamo questo va separato qui c'è tanto spazio ancora e sono cinque pezzi e come ultima cosa prodotto di cui sono rimasta davvero soddisfatta ed entusiasta a dir fuoco perché amo tanto le pietre dure e mi piace davvero questo tipo di pietra che si chiama un attimo che ve lo dico bronzite e diaspro quindi sono mescolate insieme guardate che meraviglia praticamente mi sono arrivate così ci sono cinque a gradazione praticamente ecco così erano unite insieme da un filo e da alcune palline ecco qua queste sono uguali guardate cioè questa di qua che è la più grande e poi queste queste le prese anche se in offerta stracciata al 50% 3,43 anziché 6,85 ma sono davvero e parliamo di dollari americani quindi 3,43 dollari hanno questa parte alcune parti di pietra dorata guardate che belle e anche qua già ho in mente cosa realizzare anche questo video spacchettamento si conclude qua e a più presto tornerò con i due tutorial o video creativi insomma vi mostrerò quello che ho realizzato perché comunque l'azienda non interessa la tecnica che usiamo ma dobbiamo mostrare come abbiamo utilizzato il loro materiale io vi saluto e a presto con le creazioni ciao a tutti